Grazie Marco, grazie. Benvenuti a tutti, questo nostro concerto di chiusura della festa della musica del 2019, ormai qualche anno che abbiamo avviato la festa della musica a Portacumano, però quest'anno in particolare direi che le cose si fanno più in grande e guardo che teorevizza e direi che insieme a Marco Scassi è stato uno degli artetici di queste giornate, quindi grazie anche a voi in cui è la vostra partecipazione. Quest'anno abbiamo messo insieme tante cose, tante cose bene, iniziamo a andare in ordine soltanto diciamo così come da scaletta, non perché uno si è più importante o meno, ma diciamo abbiamo qui con noi l'Accademia europea del trombone, molti di voi lo sanno l'Accademia europea del trombone è sede nei locali della casa della musica, che diciamo la casa della musica è gestita dalla banda musicale di Portacumano. L'Accademia è diciamo così un luogo di ritrovo in cui i trombonisti possono esercitare ovviamente musica e fare veramente delle attività di approfondimento molto interessanti. A capo di tutto c'è Ben Salve Parque, che salutiamo, il direttore, e insieme a tutti gli antiprofessionisti e gli antipromonisti che oggi hanno partecipato a questo ralluno dei tromboni. Contro loro abbiamo invece poi due cori, uno già lo conosciamo bene, abbiamo già provato a suonare, andiamo d'accordo, oggi abbiamo fatto le prove poi anche con l'altro sono andate benissimo, e sono il coro polifonico a Stense, che ringraziamo, insieme al suo addirittore, l'Università Casano, che è il Presidente Marcella Cairo, e al coro di Giaveno, il coro in canto, che ci fa piacere veramente avere qui con noi quest'oggi, con il loro mezzo, Velfe Manera, che sono gli antiproperati, per questo concetto poi ci dirigerà Gianluca Fasano, ma in maniera quindi gli antiproperati, quindi grazie di questo lavoro che ha fatto anche dietro le quinte, insieme alla Presidente Paola Gatti, quindi grazie per essere qui. Un grande ringrazio anche alla Stavino, Strumenti Musicali, che è un'esposizione giù al fondo, quindi ringraziamo, insieme a tutti gli altri sponsor che ci sostenono. Gli sponsor potete conoscere facilmente da quella rivista Zumba, magari da parte di vista tutti l'abbiamo messa comunque, quindi tutti ne hanno avuto modo di vedere, sono tutti i sponsor che ci sostengono e permettono di creare eventi come questo, quindi grazie veramente ancora a tutti. Ringrazio ancora a tutti i maestri e i bellieri che si sono esibiti in questi due giorni intensi di musica, te beva effettivamente la pioggia, no? Perché c'è stato un momento, invece partiamo al caldo, ma va bene così piuttosto che la pioggia, no? Direi che l'altro canto d'estate la toglieriamo. E ultimo ringrazio ancora, e tutti i collaboratori, le cuoche in particolare, questi giorni ci hanno anche rifocitato notevolmente, quindi il piatto è corto, ma dovuto al cibo. In ultimo mi ricordo che oggi ne finiamo qui con la festa della musica, ma riprenderemo poi più avanti con il campus musicale estivo dal 4 al 10 agosto, ci saranno di nuovo prime parti del Regio, dell'Opera di Berlino, e avremo tutta un'altra serie di appuntamenti che pian piano poi conoscerete e verrete informati. Quindi io adesso lascio la parola a Mario, il sindaco so che parlerà tanto dopo, lo ringrazio perché in questi giorni effettivamente abbiamo iniziato a conoscerci, no? Ci conoscevamo già, abbiamo imparato a conoscerci sotto le feste ufficiali e diciamo che ci stiamo rodando, ma tutto va bene, quindi grazie. Grazie Mario, già a te, fino al principio, che poi ne ascolto tutti.